Nell'immaginario collettivo, la Mushroom Cloud, o Nube a Fungo, è associata all'esplosione atomica. È un po' un retaggio dei primi bombardamenti atomici, quelli di Hiroshima e Nagasaki, e poi di una lunga diffusione della cultura di massa attraverso delle illustrazioni. Anche, pensiamo alla cultura giapponese dei manga e degli anime, che propone spesso e volentieri l'esplosione accompagnata da questa caratteristica Nube a Fungo. Sembra che debba essere una prerogativa dell'esplosione nucleare. Non è così, lo sappiamo. In realtà è sufficiente che l'esplosione abbia un'adeguata potenza, addirittura anche alcune eruzioni volcaniche possono essere accompagnate dalla Nube a Fungo, per generare questo tipo di fenomeno molto, molto particolare, in cui le particelle d'ossigeno vengono bruciate nell'aria e la temperatura si innalza in maniera significativa. Insomma, la Nube a Fungo comunque contraddistingue delle esplosioni molto, molto potenti. È una Nube a Fungo nera, minacciosa, accompagnata da una enorme vampata di fuoco. Si è vista anche su un mare italiano, il 9 settembre del 1943, a largo dell'isola della Sinara. Quella Nube a Fungo ha segnato la fine di una nave molto importante per i marinai italiani, soprattutto la morte di centinaia e centinaia di uomini. Questa è la storia dell'affondamento della corazzata Roma. La nave da battaglia a Roma, una sottoclasse o comunque un tipo migliorato della classe Littorio, o Vittorio Veneto per chi preferisce, era entrata in linea nell'estate del 1942 nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Era una nave molto bella, soprattutto nella linea, una nave anche all'avanguardia, potremmo dire. D'altronde si trattava di un miglioramento di una costruzione, la classe Littorio o Vittorio Veneto, scegliete voi il termine che preferite, già all'avanguardia per quanto riguardava le tecniche di costruzione dell'epoca. Potenza, velocità, resistenza. Questi erano i canoni di costruzione della Littorio, migliorati, ovviamente, con la Roma. Ma quando la Roma entra in squadra, nell'estate del 1942, la guerra ha preso una brutta piega per l'Italia, che era entrata nel conflitto appena due anni prima. E su tutti i fronti, perché d'altronde l'Africa orientale, la Bissini, l'Eritrea, la Somalia, è stata la prima a cadere. Poi la tragedia in Grecia, l'attacco per la cosiddetta guerra parallela, un fallimento colossale di Mussolini. L'Africa settentrionale, che nonostante gli sforzi dei tedeschi, del maresciallo Rommel e non solo, era ormai destinata a essere perduta, nonostante appunto l'estate del 1942 fosse avvenuto l'ultimo grande assalto dell'armata itala tedesca in Libia. Un assalto che avrebbe portato fino a El Alamein, ma sappiamo poi come è andata a finire. Poi ci sarebbe stata la tragedia in Russia, la rotta dell'armir, il tentativo di rientro in patria di decine di migliaia di soldati destinati a camminare nella neve, sfiniti ed esposti agli attacchi, alle punture di spillo dei sovietici. L'Italia non aveva una adeguata preparazione militare, lo sapevano alcuni strateghi, lo sapevano alcuni alti militari, ma il regime di Mussolini si illudeva di poter comunque partecipare al tavolo della pace, sfruttando l'onda lunga dei successi dell'alleato nazista. Così non era avvenuto, e lo sappiamo. Quando la Roma entra in squadra, inclusa nella nona divisione navi da battaglia della Regia Marina, il quadro della Regia Marina è a tinte fosche. A voler guardare in bicchiere mezzo pieno, l'unica forza a essersi mantenuta quasi intatta è quella della squadra della battaglia, che ha perso solo la Cavour, una vecchia nave ricostruita negli anni 30 e che era stata colpita da un siluro nella notte di Taranto e da allora si trovava in riparazione. Non rientrarà mai più in servizio. Per il resto, la situazione, come si diceva, è critica. Critica perché manca la nafta, quindi non si possono compiere missioni. La mancanza di nafta è tale che molte navi vengono tenute in porto e alcune riconvertite ad altri ruoli. Nel caso della gemella della Cavour, la Giulio Cesare, che in quel periodo viene trasformata provvisoriamente in nave addestramento e caserma galleggiante, formeggiata a Pola. Ma c'è anche carenza di materiali. Non si riesce a mettere in cantiere, a varare, a fare entrare in servizio nuove unità per rimpiazzare le perdite. E poi appunto c'è la questione delle perdite. La regia marina ha perso buona parte della sua forza di incrociatori pesanti. Ha perso moltissimo nel naviglio sottile e leggero, in quello di scorta, nella estenuante guerra dei convogli per rifornire l'Africa settentrionale. È un quadro davvero a tinte fosche. Le condizioni per condurre una guerra quindi diventano sempre più difficili. E anche per questo motivo, al comando superiore della regia marina, chiamato in gergo supermarina, si comincia a pensare a una strategia di tipo difensivo, conservativo. Anche perché i bombardamenti alleati, sulle basi più esposte, Palermo, Augusta, Taranto, cominciano a diventare pressanti. Quindi le navi vengono spostate verso il nord, vengono spostate a Genova, alla Spezia. Alcune alla Maddalena, ma anche la Maddalena col tempo si rivelerà un porto piuttosto esposto ai bombardamenti aerei, con la perdita di altre navi in porto. La regia marina in quel periodo, come detto, affronta una grave crisi. Non è riuscita nemmeno a completare l'ultimo progetto ambizioso, quello della portaerei Aquila, la ricostruzione di un ex transatlantico nella prima vera portaerei italiana. Tra l'altro è un progetto molto bello, ma che anche fosse andato in porto, non è che potesse sovvertire le sorti di una guerra già segnata dall'inizio. La vera novità è che dall'aprile del 1943 il comando della flotta è passato dall'ammiraglio Angelo Iacchino, cui si erano imputati tanti disastri, a cominciare dalla notte di Matapan, a Carlo Bergamini, un ufficiale da personalità forte, per alcuni addirittura irruento. Bergamini, nell'estate del 1940, al tempo del primo scontro tra la reggia marina e la Mediterranean Fleet inglese, a punta stilo, aveva insistito per uscire in mare con la Vittorio Veneto e la Littorio ancora in fase di collaudo per dare una mano alla flotta italiana contro gli inglesi. Voleva rischiare Bergamini. In quel caso gli fu detto di no. Tra l'altro lo stesso Bergamini ha sempre avuto una condotta esemplare. c'è chi dice un po' coinvolto politicamente, quindi favorevole al fascismo, o addirittura con simpatie fasciste manifeste, ma comunque è ben voluto dai marinai, nonostante sia un fautore della disciplina dura, rigida, inflessibile, misure di contenimento del dissenso, censura a bordo e nei porti, il controllo assiduo di tutte le attività. E quando il fascismo cade col 25 luglio del 43, più di qualcuno pensa che in fondo forse anche Bergamini dovrebbe essere destituito. Invece no, resta al suo posto. Bergamini resta al suo posto, anzi, il nuovo capo della Marina, l'ammiraglio Sansonetti, si fida di lui al punto da prospettargli quello che è un vero e proprio piano suicida, cioè l'attacco alle navi alleate che si sono ancorate nei porti algerini, nei porti tunisini e a Palermo dopo l'invasione della Sicilia. È un piano, come detto, suicida. D'altronde Bergamini sa che attaccare gli alleati in forze in quelle condizioni significa solo mandare al macello le navi e i marinai a bordo, per cui non se ne fa assolutamente nulla. Il 7 settembre del 1943, quattro giorni dopo la firma dell'armistizio di Cassibile, ma un giorno prima della specializzazione di quel armistizio, Bergamini è convocato a Roma da Raffaele Deporten, il capo di stato maggiore e ministro della Marina. In quel colloquio Deporten non gli dice nulla di quanto è avvenuto a Cassibile. Tiene Bergamini all'oscuro di qualunque manovra politica. Piuttosto, Deporten lancia qualche messaggio criptico. Uno di questi è l'ordine di far sbarcare dalle navi in porto qualunque unità tedesca a bordo, anche fossero dei semplici tecnici. Inoltre, di predisporre sempre a bordo una riserva di viveri e di munizioni e oltre a questo di rafforzare la sorveglianza in porto diurna e notturna. Bergamini chiede il motivo di queste misure e Deporten gli risponde dicendogli che sostanzialmente si sta preparando una grossa operazione contro gli alleati. Forse l'ultima battaglia, quella decisiva contro gli alleati. Bergamini non sembra credere molto alle parole di Deporten, però è comunque un suo sottoposto. Riceve gli ordini e se ne torna alla Spezia. Il tempo di tornare e per quanto riguarda la scena politica lo sappiamo, cambia tutto. La sera dell'8 settembre 1943 la radio dà notizia attraverso la voce del maresciallo d'Italia Pietro Badoglio dell'armistizio sottoscritto tra l'Italia, tra il regno d'Italia e le potenze alleate. Finisce tutto, finisce la guerra, finisce davvero. In realtà il proclama di Badoglio è estremamente sibillino ed espone le forze armate italiane a parecchi rischi. Il primo problema è quello dello sbandamento. Moltissimi reparti, soprattutto quelli terrestri, non trovano più ordini. Si sbanda completamente la catena gerarchica. Interi reparti, a volte intere divisioni, si dissolvono. Tutti a casa è il motto che si sente in quei giorni. Basta con la guerra, basta con le divise, basta con le armi. Torniamocene a casa. In realtà non andrà così, lo sappiamo. I tedeschi caleranno dall'alto per prendere il controllo dell'Italia e mantenere la penisola in guerra fino alla fine. I tedeschi però hanno anche un altro obiettivo ed è proprio la flotta italiana. La flotta che tutto sommato ha preservato la squadra della battaglia e che ha ancora parecchie navi in piena efficienza e che dunque può risultare utile allo sforzo bellico tedesco. I tedeschi ci avevano già provato con i francesi l'anno prima a Tolone avevano cercato di prendere il comando di ciò che restava della flotta di Vichy e all'epoca i francesi avevano preferito l'autoaffondamento e quando si diffonde nelle basi italiane il proclama di Badoglio anche lì la prima tentazione è quella di autoaffondare. Lo dicono i comandanti delle navi che vengono riuniti da Bergamini a bordo della Roma per capire il da farsi. Bergamini tra l'altro è furibondo perché nessuno gli ha detto niente. Non gli ha detto nulla a Sansonetti non gli ha detto nulla a Decourtain con cui ha parlato appena il giorno prima e si domanda il perché di quel silenzio complice forse non si fidavano di lui forse temevano che tornando alla Spezia Bergamini potesse lasciarsi sfuggire qualcosa con un collaboratore o forse temevano che Bergamini alla Spezia non fosse libero di muoversi fosse controllato dai tedeschi chi lo sa? Fatto sta che Bergamini è furibondo ed è contrario a qualunque ipotesi di consegnare le navi non le vuole dare i tedeschi ma non le vuole dare neanche agli alleati meglio autofondarsi quando a sera Decourtain telefona a Bergamini per dargli l'ordine di partire partire il primo possibile direzione sud direzione Malta la base degli alleati al centro del Mediterraneo Bergamini glielo dice in faccia l'orientamento generale degli ufficiali e dei marinai è per l'autofondamento non dare le navi fare come fecero i francesi meglio farsi internare ma non consegnare a nessuno le proprie armi tra l'altro Bergamini si lamenta con Decourtain e con Sansonetti ma altri fanno orecchie da mercante alla fine con una notevole diplomazia Decourtain riesce a convincere Bergamini a salpare ma non verso Malta verso la Maddalena gli dice che la base è sicura non solo per gli approdi gli dice che è in mano italiana non solo gli racconta una bugia gli dice che in Sardegna si sta preparando il possibile per ospitare il governo Badoglio e anche il sovrano che nel frattempo se n'è andato da Roma Decourtain mente sapendo di mentire sa benissimo che Vittorio Emanuele III non è diretto in Sardegna è diretto a Pescara dove si imbarca su una corvetta in direzione Taranto non ha nessuna intenzione Decourtain di raccontare la verità però ha necessità che la squadra della battaglia parta così in piena notte ma con un notevole ritardo dovuto alle trattative telefoniche anche al convincimento dei comandanti delle varie navi Bergamini salpa mette la prua verso sud ovest e va verso la Maddalena onestamente Bergamini non si fa illusioni anche andando alla Maddalena prima o poi dovrà avere a che fare con la politica degli alleati che pretendono la consegna delle navi gli sono arrivate anche le clausole armistiziali le navi italiane dovrebbero hissare il cosiddetto pennello nero la bandiera appunto nera e dipingere dei grandi cerchi sempre neri sulla prua sono le clausole armistiziali sono le clausole previste dagli alleati affinché la flotta italiana dimostri di fatto di aver accettato le condizioni di resa Bergamini salpa ma quei cerchi non li fa dipingere e il pennello nero assolutamente non lo fa hissare piuttosto prosegue lungo la sua rotta rotta che però viene seguita dai tedeschi i tedeschi non hanno rinunciato a mettere le mani sulla flotta italiana o in alternativa a distruggere la collega romani purché non vada a rinforzare le fila degli alleati questo è il primo obiettivo opposto da Hitler che comunque è furibondo per quello che ritiene un vero e proprio tradimento da parte dell'Italia da quel momento in avanti è una corsa contro il tempo dove? verso la Maddalena mentre altre navi salpano salpa da Giulio Cesare che viene riarmata in tutta fretta da Pola verso sud a bordo addirittura scoppia un ammutinamento quando si viene a sapere che la nave non sta andando a combattere ma a consegnarsi agli alleati e ci vuole tanta pazienza per far tornare gli ammutinati a ripensare alla loro decisione un'altra squadra comprendente le vecchie Doria e Duilio comandata dall'ammiraglio Dazzara salpa anche questa e si dirige verso la Valletta verso Malta manca il grosso della flotta grosso della flotta che va verso la Maddalena finché non succede qualcosa la nave ammiraglia la Roma seguita da tutte le altre sta imboccando le bocche di Bonifacio e in quel momento a bordo arriva una comunicazione di Decourtain invertire subito la rotta la base a Maddalena non è sicura ci sono i tedeschi sono arrivati prima di tutti hanno conquistato la base hanno arrestato la guarnigione italiana insomma andare alla Maddalena significa finire in bocca ai tedeschi invertire la rotta subito Bergamini obbedisce piuttosto preferisce andare da altre parti pensa a dove andare intanto inverte la rotta di 180 gradi a quel punto le destinazioni non sono tante nessuno pensa ad andare in Spagna a far internare le navi c'è chi pensa di andare in Algeria e c'è chi pensa invece proprio di andare a Malta di ubbidire tempo passa se arriva alle 15 del pomeriggio il cielo sopra la flotta italiana inizia ad oscurarsi ci sono tanti bimotori tedeschi i Dornier i 2-1-7 a bordo di quei bombardieri c'è un'arma nuova un'arma terrificante si chiama Rurstal SD-1004 per gli alleati diventerà nota come la Fritz X è una bomba planante radio guidata cioè viene controllata con un dispositivo radio da bordo del bombardiere e tramite degli alettoni si può definire la traiettoria precisa o abbastanza precisa sul bersaglio è una bomba che sfrutta la capacità di caduta per aumentare la propria capacità di penetrazione sull'obiettivo una bomba ideale per sfondare i ponti corazzati delle navi i bombardieri arrivano in formazione il comandante della formazione tedesca il maggiore Gioppe è convinto che l'antiaerea delle navi italiane abbia una gettata massima di 4.000 metri quindi si mantiene a quota 5.000 al di fuori della portata dell'antiaerea ma comunque una quota sufficiente perché la Fritz X possa funzionare basandosi sulle ronde radio a bordo la prima Fritz X viene sganciata e sfiora la prua dell'incrociatore Eugenio di Savoia mentre dalla flotta italiana parte un fitto tiro antiaereo che non basta però a scoraggiare i tedeschi che continuano l'attacco una seconda Fritz X arriva a poppa della corzata Italia l'alittorio che ha cambiato nome dopo il 25 luglio da Trondè caduto il fascismo era bene non mantenere nessun retaggio neanche nella marina che tra tutte le armi forse era quella più antifascista l'onda d'urto generata dal scoppio di questa seconda bomba che come detto piove a poppa della Italia genera un'onda d'urto che blocca il timone principale della corazzata per qualche minuto ma non è ancora il momento della tragedia quello si compie alle 15 e 42 un'altra Fritz X questa colpisce la Roma la colpisce nella zona dei cannoni antiaerei da 90 mm non detona l'impatto ma esplode sott'acqua dopo aver attraversato lo scafo come se fosse un coltello caldo e un panetto di burro questo fa capire quanto sia potente la Fritz X e la Roma accusa il primo colpo ma è comunque una corazzata moderna è una buona nave forse ce la può fare no non ce la può fare ce la può fare perché 8 minuti dopo ne arriva un'altra di Fritz X e questa piove sul bersaglio peggiore la SD 1400 arriva sul lato sinistro di prua si infila tra la seconda torre dei grossi calibri quella sopraelevata e il torrione comando la bomba anche in questo caso trapassa i ponti corazzati arriva a provocare l'allagamento del locale caldaie lì vicino ovviamente le caldaie si fermano la nave accusa improvvisamente un rallentamento poi arriva l'esplosione potentissima un'esplosione che coinvolge la Santa Barbara dei grossi calibri il deposito delle munizioni da 381 mm la deflagrazione della testata della bomba è devastante la nave viene scossa da un fremito titanico l'onda d'urto è tale che la seconda torre sopraelevata a prua schizza in aria incurante del suo peso da 1500 tonnellate immaginate questa torre enorme che sale in cielo improvvisamente il calore sviluppato da quell'esplosione è tale da fondere la struttura della plancia nel torrione comando Bergamini il comandante della nave Adone del Cima e tutti gli altri ufficiali muoiono orribilmente in un rogo infernale quella vampata sviluppa quella nube a fungo di cui parlavamo all'inizio è uno spettacolo terrificante i marinai delle altre navi della formazione italiana li assistono impotenti terrorizzati l'agonia della Roma dura nemmeno un quarto d'ora poco dopo le 4 del pomeriggio la nave ingovernabile si spezza in due tronconi si capovolge e affonda con sé porta 1300 vite umane i sopravvissuti sono solamente 600 molti di questi sono feriti o gravemente ustionati si trovano in condizioni gravissime non tutti sopravvivono vengono raccolti dalle altre navi portati a bordo e curati alla meglio nel frattempo i tedeschi sganciano un'altra SD 1400 un'altra Fritz X che colpisce l'Italia causando però solo un piccolo allagamento che rallenta la corsa della nave di qualche nodo ma senza esplosioni per fortuna dopodiché se ne vanno hanno concluso la loro missione tornano alle loro basi la formazione italiana è nel caos la Roma era la nave ammiraglia ma in quell'esplosione è morto il capo della squadra l'ammiraglio Bergamini è morto tutto il suo staff quindi a prendere le redini di ciò che resta è l'ammiraglio più anziano Romeo Oliva che si trova su uno degli incrociatori è lui a dare l'ordine alle navi sopravvissute di innalzare il pennello nero di dipingere i cerchi neri e di fare rotta sulla valletta non tutte le navi obbediscono l'attilio regolo è una piccola flottiglia che ha raccolto i superstiti anche per questioni umanitarie preferisce dirigersi verso i Baleari preferiscono accettare l'internamento nella Spagna neutrale per provare a salvare i sopravvissuti sbarcarli in un ospedale militare e farli curare il prima possibile ed è quello che avviene ciò che resta della flotta italiana arriva lì alla valletta ricongiungendosi con la squadra dell'ammiraglio d'Azzara e con la Cesare che come abbiamo detto è riuscita a superare l'episodio dell'ammutinamento a bordo e a arrivare a destinazione a Malta i marinai italiani ricevono gli onori militari dagli inglesi gli inglesi riconoscono il valore dei loro ex avversari per tre anni si sono confrontati sul mare certo alcuni inglesi pensano che la regia marina abbia esagerato in fondo era una specie di costola della Royal Navy in fondo tanti ufficiali italiani venivano prima della guerra ben visti dagli inglesi alcuni inglesi avevano vissuto tutto ciò come un vero e proprio tradimento ma a fronte delle clausole d'armistizio c'è poco da fare le navi vengono dopo un po' trasferite internate la cobelligeranza che verrà dichiarata solo ad ottobre non permetterà ai marinai italiani di tornare subito in servizio qualche nave viene mandata a pattugliare le rotte oceaniche è chiaro che sono compiti di retrovia utilizzati più che altro per ragioni politiche per giustificare l'impegno del governo italiano dopo l'armistizio in quella appunto che viene definita la cobelligeranza quando si arriva alla fine della guerra la flotta italiana tra tutte quelle delle potenze dell'asse è quella che ha preservato maggiormente le proprie navi e quindi diventa preda dei vincitori l'unione sovietica già a Teheran aveva richiesto aliquote della flotta italiana per irrobustire la propria marina respinta la richiesta sovietica in quell'occasione ma a guerra finita le pretese ritornano l'unione sovietica vorrebbe una delle due Littorio Vittorio Vento come preferite chiamarle sono le navi più moderne gli Stati Uniti e Gran Bretagna si oppongono dicono che quelle navi spettano a loro in realtà non le ritireranno mai e forranno la clausura che vengano demolite previa però in precedenza l'abbattimento dei cannoni principali tagliati con la fiamma ossidrica veramente uno spregio nei confronti dei palinai sconfitti l'unione sovietica avrà la Cesare che poi farà una brutta fine nel porto di Sebastopoli saltate in aria c'è chi dice per un sabotaggio c'è chi dice per aver urtato una vecchia mina tedesca nel 1955 i francesi si prenderanno qualche incrociatore la stessa cosa i greci per i marinai italiani per quelli che hanno combattuto sui mari sembra quasi di risentire quell'urlo terribile del gallo Brenno che nel 390 a.C. si era rivolto ai cittadini romani dopo aver conquistato Roma ve victis guai ai vinti aveva urlato Brenno gettando il suo spadone sulla bilancia mentre si pesava l'oro del riscatto che avrebbero dovuto pagare i romani i vinti non hanno ragione di accampare pretese questa era la motivazione della frase di Brenno che è arrivata fino ai giorni nostri le parole in latino sono state ricordate poi anche da Benedetto Croce che commentando il trattato di pace trattato che era fortemente limitativo per l'Italia non solo in termini di perdite territoriali ma anche di politica militare futura avrebbe denunciato quelle clausole quelle clausole di pace tiranneggianti e ricordando come il carattere della legge di guerra vede spesso e volentieri i vincitori poter disporre al proprio piacimento dei vinti e la legge di guerra e la legge di guerra la legge di guerra è la legge di guerra